Noi parliamo regolari di Parigi, il padel, i gioie olympici, parliamo anche dei gioie europei in Pologna, parliamo anche dei prossimi gioie olympici in 2028. È tutto questo possibile? Presto, perché per noi il padel alle Olimpiadi non è un sogno, è un progetto. Per realizzare progetti servono un buon architetto. Il nostro architetto è Luigi e sta già lavorando per questo. Mi ripeto, pochi anni fa non era possibile venire a presentare un campionato europeo nel Salone d'Onore del CONI, davanti a tutte le autorità dello sport mondiale. Oggi è stato possibile e in tutto l'abbiamo fatto in cinque anni. Credo che per quella data noi riusciremo a fare quello che ci siamo prefissati. Che manca, potrebbe, al padel, per che sia parte della famiglia olympica? Nulla, non manca nulla. C'è un progetto, ci sono delle linee guida che noi ben conosciamo. Quando abbiamo candidato Luigi alla federazione internazionale, sapevamo che lui queste linee guida le conosceva bene e sapeva percorrerle. Quindi è soltanto questione di tempi. Grazie.